benvenuti a tutti voi presenti in questa ora e soprattutto ai telespettatori da casa da Corrado Armeri un grazie della vostra presenza e vi auguro una buona serata anche perché sarà un momento importante oggi tre femminicidi quindi entriamo purtroppo nell'argomento della difesa delle donne nel mondo peggiore di questa giornata ma è il momento di fare rete il momento di parlarne è il momento di agire e soprattutto ci auguriamo che le istituzioni la politica per prima faccia delle leggi ancora più importanti ancora più incisive leggi che diano la possibilità alle associazioni ma anche alla magistratura e alle forze dell'ordine di intervenire subito senza aspettare che la persona che vuole fare danno arrivi proprio a questo gesto estremo allora per essere sintetico questa iniziativa nasce dopo quella del codice rosso che abbiamo creato il telefono verde la stanza protetta e adesso desideriamo creare forme nuove di mobilitazione e coscienza civica ascoltare la società civile le associazioni le istituzioni le forze dell'ordine la magistratura e chiedere anche al mondo della cultura come abbiamo fatto questa sera l'arte e le associazioni ma anche il mondo dello spettacolo della moda un sostegno nell'organizzare un momento di grande impatto emotivo con uno spettacolo innovativo da portare nelle scuole nei teatri dove insieme far passare messaggi forti e nello stesso tempo attirare l'attenzione attraverso momenti di intrattenimento ma soprattutto il progetto donne per le donne nasce serva di integrare esperienze di singole donne e associazioni che hanno la sensibilità di comprendere che unite si può fare tanto quali sono quindi gli obiettivi di questa sera costruzione di un progetto di intervento con orientamento e formazione ai servizi alle risorse attivabili colloqui preliminari al fine di comprendere chi desidera impegnarsi in prima persona e chi invece per motivi diversi vuole sostenere economicamente le iniziative elaborazione di un percorso comunicativo con i giovani attraverso la scuola il teatro e lo sport e poi l'organizzazione di gruppi di mutuo soccorso informazione periodica attraverso i mezzi di comunicazione e la formazione di una rete consolidata di servizi operatività gestite unitariamente dalle associazioni che desiderano aderire a questa consulta che nascerà questa sera questo è l'intentimento io intanto desidero iniziare il momento di interventi chiamando il dottor giuseppe raffa prego giuseppe facciamo un applauso giuseppe io preferisco lasciare a te la parola e quindi niente interviste vai tu tanto grazie grazie per l'invito e mi metto da questa parte io sono pedagogista e coordino l'ambulatorio antibullismi dell'aspe di ragusa noi siamo l'unica struttura del sud che si occupa specificatamente di violenza giovanile che poi è come dire l'altra faccia della stessa medaglia perché un bambino un ragazzo un giovane violento nei confronti dei coetane sarà quasi matematicamente un partner violento nei confronti delle coetane dei della moglie della fidanzata di una semplice conoscenza il problema della violenza sulle donne corrado e dei femminicidi tra l'altro ce n'è stato proprio uno ieri ieri a milano non è un problema esatto e tre oggi in sicilia e non è un problema che riguarda solo le donne riguarda anche le donne ma soprattutto riguarda gli uomini ed è questo che bisognerebbe comprendere bene e andare alle ragioni perché un giovane uomo si comporta nella maniera che purtroppo tutti sappiamo ho detto giovane perché il problema delle dei maltrattamenti e dei femminicidi riguarda giovani uomini in età compresa tra i 30 e i 40 anni quindi è anche un problema culturale oltre che un problema ovviamente di natura educativa perché la violenza si acquisisce a casa sentivo prima nelle interviste che alcuni sottolineavano giustamente il fatto che le scuole hanno un ruolo fondamentale in tutto questo e ci mancherebbe altro ma non basta care amiche e cari amici serve una nuova famiglia oggi la famiglia è in crisi un matrimonio su tre fallisce dopo i primi cinque anni oggi il ruolo del padre è in crisi come il ruolo della madre il ruolo del padre è fondamentale nell'acquisizione di due principi cardine nei comportamenti dei ragazzi il primo è il principio di responsabilità il secondo di giustizia è chiaro e sotto gli occhi di tutti che un giovane privo di questi due principi dunque privo di padre sarà un violento sia nei confronti dei coetanei che nei confronti appunto delle donne la crisi della madre oggi molte madri hanno dismesso la buona la corretta abitudine di corrispondere di inculcare nei ragazzi nei figli il codice materno che poi parliamoci chiaro è la chiave d'accesso alla emotività altrui alla mia emotività oggi si parla di estremo cinismo giovanile di giovani anaffettivi ecco è colpa del padre ma è colpa anche dell'assenza del deficit di madre ecco ripartire dalle famiglie e poi con le scuole serve un progetto serve un intervento forte poi anche legislativo come giustamente dicevi tu ma non basta perché ripeto bisogna ripartire da dalle famiglie molti ragazzi oggi hanno una concezione berghiana delle donne cioè la donna è roba mia non è così non è così pensate che in cina ci sono dei corsi per migliorare il macismo cioè per essere più maschi una cosa veramente assurda e incredibile ecco tutto questo va cambiato serve anche l'indipendenza morale e economica della donna su questo non ci sono non ci sono dubbi e poi io sostengo in conclusione anche un altro concetto che è fondamentale oggi fanno un gran lavoro le associazioni che si occupano di violenza contro le donne ma io penso che serve anche lì un cambio di rotta una strambata proprio culturale che faccia sì che chi chi lavora in questi centri abbia una formazione ancora migliore rispetto a quanto succede adesso servono nuove abilità pedagogiche psicologiche di emotività per riuscire a capire ciò che succede e di questi giorni la costituzione della commissione bicamerale contro i femminicidi di cui è presidente la deputata semenzato è un passo avanti che a livello nazionale si sta si sta facendo ma e concludo bisogna intervenire prima con le famiglie e poi ovviamente con le scuole prima di concludere presente il tuo libro sì io ti ringrazio sto un po' girando la sicilia orientale di questi di questi tempi si chiama fuori dalle bolle social e un piccolo manuale pedagogico rivolto ai genitori di nativi digitali cioè l'altra specie umana così come la chiamo io simpaticamente questi ragazzi immersi nelle tecnologie che si chiudono nelle bolle perché non riusciamo ad educare riusciamo ad educare perché non li conosciamo perché loro hanno una mentalità una personalità un modo di fare di agire di vivere completamente diversi e allora ecco che bisogna intervenire in che maniera studiando le tecnologie cioè i loro campi dopo di che con nuove abilità pedagogiche e tecnologiche educare tornare ad educare questi ragazzi che adesso sono praticamente vittime del cosiddetto abbandono educativo e allora questo libro serve semplicemente per offrire un contributo un supporto ai genitori che vogliono davvero educare i ragazzi insieme ovviamente agli insegnanti ai docenti che hanno necessità di essere collaborati dalle famiglie dalle nuove famiglie questo è il libro che diciamo ho redatto negli ultimi negli ultimi tempi e che sta girando un po per tutta beh lo si trova intanto condattando me perché è un prodotto dell'assod cioè l'assod è un'associazione che si occupa di servizio civile ma di soggetti portatori di handicap cioè è una associazione che raccoglie tramite il mio libro non ci guadagno nulla caro corrado dei fondi per questi ragazzi che soffrono e che hanno bisogno di progetti come quello che appunto sarà realizzato con la raccolta di fondi basta contattare me attraverso i social e saprete eventualmente dove poter rintracciare il libro di cui stiamo parlando grazie grazie al dottor giuseppe raffa grazie tanto adesso il dottor roberto cadavudella porterà il saluto dei lions prima sentiamo tutti i maschietti e poi tutte le donne fate i cavalieri all'incontrare allora innanzitutto ringrazio la vostra associazione perché l'iniziativa è splendida noi come gruppo lions ci siamo sposiamo pienamente quelle che sono le problematiche in itinere questa serata dicevo prima nell'intervista dobbiamo agire per cercare di far vivere un mondo migliore alle nostre figlie questo è l'obiettivo che io mi sono posto e sono sicuro che se faremo rete riusciremo nell'intento quindi grazie ancora grazie roberto chiamo salvatore ignacolo professore venga qui ho fatto un manuale velocemente parlaci di questo manuale grazie per l'invito intanto buonasera a tutti niente da dire c'è che l'anno scorso pochi mesi fa poi la fin fine 25 novembre abbiamo presentato qui un libro che chi vuole può anche consultarlo perché mi pare che sia lì in nello scaffale dal titolo il rischio violenza dove praticamente dopo un tre anni di lavoro praticamente ho voluto affrontare l'argomento violenza da tutti i punti di vista quello sulla violenza delle donne è praticamente un effetto no di una di una matrice violenza che ci ci portiamo appresso dalla notte dei tempi dai tempi di caino a bene possiamo dire no e niente potete trovare in questo manuale tanti aspetti che sono relativi alla prevenzione della violenza alla protezione contro contro la violenza e sulle donne cosa possiamo dire che diciamo non è stato detto niente il problema è il patriarcato diciamolo questa visione quindi che l'uomo ha di se stesso no di diciamo di estremo di estremo orgoglio di essere padrone no sia della propria vita ma anche della vita degli altri che è un qualcosa voglio dire di sbagliato che volte poi si ripercuote sui figli e da una parte dall'altra parte invece molti stalker oppure molti femminicidi non nascono perché diversamente diciamo il maschio è cresciuto con il cosiddetto disturbo di personalità dipendente cioè praticamente qualora alcuni dico si si vedono abbandonati dalla partner o dalla moglie che sia entrano in uno stato di depressione tale o di ci si vedono così persi che poi l'unico gesto che gli resta da fare sono gli atti che spesso sentiamo alla tv cioè l'omicidio e suicidio per questo l'abbiamo già detto tante volte a scuola e soprattutto in famiglia bisogna educare 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 e soprattutto in famiglia dare l'esempio dare l'esempio il papà il marito l'abbiamo detto qui a novembre che aiuta la propria moglie anche nelle semplici faccende domestiche da un esempio fortissimo ai propri figli maschi o femmine che siano di più non so cosa dire dico agli impreparati grazie Valentino De Jesu presidente dell'associazione nazionale carabinieri prego Valentino come componente dell'arma e come presidente dell'associazione nazionale carabinieri sa quante ne hai viste anche troppe e purtroppo ogni volta era una sofferenza per me perché vedere trattare le donne in un certo modo è una vergogna per l'essere umano finalmente le donne hanno raggiunto la parità con gli uomini ed è una grande conquista ma deve essere una grande conquista anche per noi uomini non è solo per le donne le donne vanno rispettate le donne vanno amate devono essere un oggetto prezioso per l'uomo e purtroppo tanti uomini questo non lo concepiscono perché nascono appunto con la convinzione di essere sempre superiore alle donne anche se si è arrivati a certi livelli di parità con le donne questa è una delle cose che dobbiamo cercare sempre di combattere e poi con la divisa dei carabinieri ho partecipato in tantissime situazioni del genere e veramente sono delle cose ingresciose devo essere contento per una delle tante situazioni c'era un'amica che aveva problemi con il marito veniva violentata veniva maltrattata veniva malmenata però non aveva il coraggio di denunciare più di una volta gli ho detto ti devi presentare i carabinieri o la polizia dove vuoi andare e andare e devi denunciare perché se non denunciano le donne alla fine si arriva al punto anche di essere uccise se non che un giorno mi ha mandato delle foto con dei lividi addosso era stata massacrata a quel punto gli ho detto o vai tu in caserma a fare la denuncia o la denuncia la faccio io perché giustamente arrivato a questo punto mi sento anche responsabile di quello che ti possa succedere se io non intervengo e così è stato prima lei è stata completamente contraria però non sono stata a sentirla sono andata a fare la denuncia a posto suo si è intervenuti il marito è stato arrestato dopodiché ci sono stati processi contro processi e oggi come oggi mi viene a baciare le mani perché mi ha detto mi hai salvato la vita e hai salvato anche forse la vita anche delle mie figlie perché anche loro erano diciamo malmenate dal padre grazie a valentino de jesu grazie presidente allora presentiamo un libro che dovevo presentare al comune paolo monaco vieni qua vieni parliamo di rapporto donna feto il principale problema educativo è la relazione sociale fondamentale tu dedichi questo libro alla donna perché si autoconvinca di essere la regina e la luce dell'umanità quindi fortemente questo ruolo della donna tu lo incentivi sia nel momento in cui hai in membro il feto e poi quando questo feto diventerà bambino quindi sarà già un passo avanti l'ho studiato bene meno male so studiare all'età mia veneranda so studiare ancora e ti faccio i miei complimenti personale per tutto non solo per questo ma perché dal luglio dell'anno scorso hai saputo creare un mondo nuovo con diverse associazioni femminili molto importanti ma per me non sono sufficienti né sono sufficienti i discorsi che si fanno nella pubblicistica contemporanea perché il problema risale al rapporto feto mamma o donna perché io ho scritto e ne assumo la responsabilità di fronte a chiunque che il rapporto madre feto è il principale problema educativo il principale problema educativo più importante del rapporto maestro alunno purtroppo non è colpa della scuola ma è colpa della filosofia della pedagogia di tutte le psicologie educative che non hanno minimamente trattato questo argomento e se non si tratta questo argomento dal punto di vista educativo tutte le associazioni il lavoro immensa e prezioso che è fatto Corrado Armere è vanificato anche il lavoro delle forze armate di tutte le associazioni femminili perché perché comincia questo problema educativo dalla scuola quando la donna non è in gravidanza perché ormai è tardi è importante quando è in gravidanza di curare il rapporto emozionale il rapporto mamma feto dal punto di vista educativo e questo lo dico con animosità perché viene perché mi viene dal cuore e se io ho fatto questa pubblicazione che non avevo bisogno di pubblicarla l'ho fatto perché mi ha spinto il cuore per l'amore verso la donna mi ha spinto il cuore per l'amore verso la società perché l'amore verso la donna è l'amore verso la società di oggi per una società diversa da quella di oggi è una società io vi chiedo a tutti qui è una società questa una società che ha cancellato i valori umani tutti tranne uno il dio denaro ecco si vive per dio denaro questa società e noi abbiamo la possibilità di definire questa società una società possiamo definirla una società o no ecco allora il principio è cominciare a scuola l'educazione dell'alunna e degli alunni per sapere sin da quando sono alunni la funzione sociale della maternità e della per quanto riguarda gli alunni la funzione sociale della paternità tu che diventi padre qual è la tua funzione lo devono imparare a scuola le tutte le associazioni femminili come quelle che ha creato corratarmeri sono insufficienti bisogna cominciare dall'alunno nella scuola e solo partendo da lì a mano a mano quando uno spermatozovo feconda l'ovulo di una donna la donna deve essere protetta amata educata alle sue emozioni perché quando ora vi dico quello che ho riscontrato nella ricerca scientifica ultima sei mesi fa 4 gennaio 2023 e io quando rileggo ripeto questi risultati mi emoziono si emoziona il mio cuore perché sente l'importanza di questo rapporto chi è il feto il feto è l'essere umano che percepisce lo stato d'animo della mamma e lo vive il feto percepisce i pensieri della mamma pensate un po' chi è il feto percepisce i pensieri della mamma e li vive e allora è così evidente che il rapporto madre-feto è il principale problema educativo e questo purtroppo e lo dico con dispiacere personale la filosofia la pedagogia le psicologie educative non hanno messo neanche una virgola non l'hanno mai pensato non l'hanno mai espresso e bisogna partire da lì per cui cerco di finirla perché se no qua dobbiamo presentare il libro se lo presentiamo stasera va bene allora termino con l'augurio che la società io mi sono chiesto anche che cos'è la società chi è la società noi non abbiamo diritto io personalmente per primo non ho diritto di dire la società è violenta la società è ipocrita la società è forte contro gli altri è schierata non con gli altri per gli altri ma contro gli altri e allora e allora concludo dicendo che la società essendo il frutto la somma delle relazioni sociali che intercorrono fra me e te fra me e voi questa è la società ma chiediamoci come sono le nostre relazioni sono oneste sono sincere o sono ipocrite interessate perché cosa io credo che non siano oneste lo dobbiamo dire allora dobbiamo avere il coraggio civile di dire con responsabilità non per dire rivolgerlo agli altri no a noi stessi avere il coraggio di cambiare noi stessi prima e avere il coraggio di essere migliori ogni giorno per una società migliore grazie 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 Paolo riprenditi il libro grazie e adesso vorrei qui Serena Carnemolla presidente del caffè letterario federiciano Mariannina Coffa di Noto buonasera a tutti buonasera Corrado e grazie io in questo momento vorrei condividere con voi la gioia di questo incarico che mi è stato assegnato da Corrado e vorrei raccontarvi la storia di Mariannina una donna come tutte noi e vorrei raccontarla proprio con la voce di Mariannina se me lo consentite mi chiamano Nina sono nata nel 1840 anzi nel 1841 per l'esattezza era il 30 settembre una bambina promettente mio padre amava tantissimo portarmi nei salotti letterari farmi comporre poesie in estemporanea a volte le scrivevo sul momento altre volte le preparavo prima ma era la mia il mio modo di esprimermi la mia voce viaggiava attraverso le parole ero felice ero libera potevo scrivere potevo parlare potevo raccontarmi le emozioni le feste vivevo a Noto Noto è il cielo che amo il mio cielo la mia terra e in quel luogo ho vissuto le più grandi e più belle emozioni ho conosciuto il mio precettore Corrado Sbano lui si è occupato della mia crescita un sacerdote veramente accorto che mi ha cresciuta con amore con affetto mi ha permesso di scoprire i lati più importanti di me stessa di trovare il mio legame con Maria con Corrado e con tanti dei santi più preziosi di Noto poi un bel giorno mio padre ha deciso di farmi scoprire anche un'altra arte la musica e così mi ha presentato il maestro Ascenzo Mauceri colui il quale mi ha dato lezioni di pianoforte mi ha permesso di conoscere la sua arte l'arte della musica la libertà della musica e lì mi sentivo libera e felice con quest'uomo più grande di me che mi dava forza coraggio libertà poi un giorno nel salotto di casa ospitiamo un uomo credo si chiamasse Mignieco sì Mignieco e quest'uomo comincia a parlarmi di spiritualità di interiorità inizia a parlarmi di magnetismo di fluidi di anima ed ecco che io e Ascenzo ci guardiamo su quelle poltrone lui ci guarda e ci dice voi due siete due anime gemelle voi due siete nati per camminare insieme da quel giorno la mia poesia spicca le ali inizio a scrivere a comporre a sognare è magia pura Ascenzo parte deve andare a Firenze a lavorare altrimenti non può sposarmi il nostro fidanzamento non si può concretizzare e all'improvviso mia madre mi chiede di starle vicino in un momento importante mi presentano Giorgio Giorgio Morana e mi portano alla cattedrale di Siracusa e l'alba e non so per quale motivo mi trovo lì mi hanno vestita a festa ho appena vent'anni neanche e mi costringono a sposarlo lo sposo contro la mia volontà da quel momento vado a vivere a Modica la terra del Racusano è veramente una terra gradevole ma non è la mia terra non è il mio cielo mi manca Noto mi manca Ascenzo non posso più parlare con lui mi è proibito tutto nel giro di qualche mese sono già incinta e amo questa creatura più di me stessa ma io amavo me come creatura prima di tutto e adesso mi è stato negato questo piacere e la vita continua sono una buona madre svolgo le faccende quotidiane mio suocero mi impedisce di scrivere perché le donne le donne che scrivono sono donne di malaffare non abbiamo facoltà di parola dobbiamo solo fare le nostre faccende che non mi sono permesse addirittura mi hanno chiusa in casa perché Ascenzo deve venire qui in zona e non posso rischiare di incontrarlo Ascenzo mi manca Ascenzo ma io ho ricominciato a scrivergli sì perché Ascenzo è importante per me perché lui era la mia libertà le mie ali ed ecco che arriva quel giorno un'altra gravidanza nasce muore e un'altra ancora due morti vedo solo morte attorno a me iniziano a morire attorno a me le persone più care nessuno mi ascolta più non posso scrivere rimando indietro tutte le lettere ad Ascenzo mi hanno tarpato le ali mi hanno tolto la voce mi hanno tolto da casa non posso fare più nulla sono annientata non posso neanche abbandonare mio marito perché mia madre non mi vuole con sé in casa mio padre dice che sarei una donna di malaffare e non sono più libera ma io non mi do per vinta io torno a casa torno a casa i dolori sono sempre più forti soffro ormai ho superato i 34 anni soffro è un dolore lancinante mi viene diagnosticato come un problema nervoso io ho solo un problema nervoso sì avolio il farmacista avolio mi nega addirittura la morfina perché è un problema nervoso devo solo stare più calma ma io sanguino e nessuno mi ascolta e prima di tutto sanguina il mio cuore ed è così che a soli 36 anni io muoio muoio nell'indifferenza muoio senza scienso che mi rivolga più una parola i medici mi hanno abbandonata mi hanno abbandonato tutti non c'è nessuno al mio funerale non c'è nessuno sono morta sola sono sola è così solo un secolo e poco più dopo decido di di fare una comparsa in un sogno c'è una ragazza che a 16 anni ha noto la mia terra ha iniziato a scrivere sta scrivendo la vedo lì china tra una lacrima dell'adolescenza un sogno spezzato che lì scrive un racconto una poesia un altro racconto arriva a collezionare decine di racconti e centinaia di poesie e io sono lì e un giorno mi chino al suo capezzale e le dico serena serena sai che c'è un carteggio un mio carteggio che è stato perduto quando sono morta quel carteggio è stato fatto sparire mi hanno tolto la voce anche da morta serena fai qualcosa serena scrivi di me serena torna a dare voce alla voce che mi è stata tolta ed ecco perché io ho ricominciato a scrivere a nome di Mariannina ho ricominciato a collezionare quei tasselli mancanti della sua vita il carteggio perduto con ascenso le parole che non sono state dette l'amore per la spiritualità di questa donna che le è stato negato l'impossibilità di accedere alle cure mediche ancora oggi molte donne patiscono per delle patologie importanti e nessuno le ascolta è un problema nervoso viene detto la medicina fa il suo compito ma molte donne vengono lasciate nel silenzio non è data loro la possibilità di fare rete e farsi forza e io sono qui per questo e quando ho incontrato il sentire di Corrado e l'anima di Corrado per me è stato un dono inestimabile ricevere questo prezioso dono di fiducia e avere la possibilità di ridare voce a Mariannina e alle donne come Mariannina attraverso questo progetto con il quale desidero coinvolgere tanti 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 aspetti del femminile che sono stati in qualche modo silenziati e non solo con la scrittura ma anche con delle azioni profonde quindi non posso che ringraziare Corrado e tutti voi per aver ascoltato la mia storia è quella di Marianna grazie Serena ti avremo dopo è la storia di Mariannina Cofa è la storia delle donne e soprattutto delle donne di Sicilia vorrei qui Antonella Modica vieni Antonella insegnante a Pozzallo ma non solo Antonella a te la parola grazie grazie intanto per l'invito non sono abituata ai palchi grazie per l'invito soprattutto da parte dell'associazione e da parte anche di Corrado sono Antonella Modica sono un'insegnante dell'istituto Antonio Amore di Pozzallo anche se sono modicana insegno là da un tempo immemorabile e vengo anche in nome della Casa delle Donne come socia tesserata la Casa delle Donne è a Scicli ed è una bella realtà all'interno della realtà non solo ciclitana ma di tutto il Ragusano l'attività che si svolge a scuola è un po' quello che è stato già detto in precedenza educazione io direi educazione ed azione educazione appunto bisogna educare le nuove generazioni non solo le ragazze che debbono avere rispetto per se stesse ma anche i ragazzi noi iniziamo dall'infanzia uno dei nostri grandi scatoloni è il Laboratorio Mimosa nato circa tre anni fa questo grande progetto lo rinnoviamo di anno in anno il primo anno abbiamo parlato della biblioteca abbiamo creato la biblioteca delle donne e delle bambine quindi c'era un angolo con un angolo lettura con un angolo anche per poter per gli audiolibri il secondo anno invece ci siamo concentrati sulle sulle donne artefici di vita e quindi abbiamo parlato delle donne che sono arbitro che sono fotografe che sono casalinghe che sono dirigenti quindi ci siamo il nostro ci siamo allargati un ampio raggio quest'anno invece ci siamo concentrate sulle donne nella divina commedia la particolarità di questo progetto è che non coinvolge solo i ragazzi delle classi della secondaria ma parte dalla scuola dell'infanzia coinvolgiamo i bambini di 5 anni le quinte classi e poi le classi soprattutto le mie classi quest'anno avrò tre terze quindi un prossimo anno abbiamo già le idee su quello che vogliamo fare coinvolgiamo soprattutto i ragazzi che vogliono un progetto pomeridiano quindi un di più creare questo tipo di educazione però comporta delle spese perché non solo spese di spendio fisico e quindi di lavoro personale ma anche economico e purtroppo le scuole di oggi non hanno tante risorse per poter fare educazione di genere come si dovrebbe dobbiamo essere dobbiamo essere sincere spesso e volentieri non ci sono i soldi per pagare i progetti normali figuriamoci quando si pensa molto in grande il laboratorio Mimosa qual è il suo obiettivo quello di creare una coscienza la coscienza da parte dei ragazzi delle ragazze e noi insegnanti con me c'è Rosamaria Armeri con cui lavoro da tanti anni ma in questo laboratorio è lo zoccolo duro come me insieme ad un'altra vostra compaesana che è Claudia Sambito che non è qui presente noi rivolgiamo appunto stavo dicendo che noi lavoriamo con loro quindi se facciamo lo spettacolo noi impersoniamo ad esempio nella Divina Commedia ho impersonato la morte perché ero nell'aldilà quindi era la padrona di casa tra virgolette loro hanno impersonato chi l'amore chi la speranza la ragione quindi i ragazzi e gli insegnanti lavorano assieme quindi non è qualcosa di avulso l'insegnante dall'altro ai ragazzi come dire che guardano in basso assolutamente e anche lo spettatore lo spettacolo che abbiamo realizzato è stato in esterno ed è stato uno spettacolo immersivo per cui lo spettatore era in questo corridoio centrale ragazzi che recitavano a destra e a sinistra per cui di sopra avevamo suoni e colori per cui lo spettatore era immerso a 360 gradi nello spettacolo vero e proprio come socia invece della Casa delle Donne porto intanto i saluti della Presidente essa che è Melania Carruba come anche i saluti della dirigente Veronica Veneziano la Casa delle Donne di Scicli stavo dicendo prima è una bella realtà una realtà in cui la donna lavora per la donna e non si pensa solo all'educazione di genere ma all'aiuto fattivo perché spesso e volentieri le donne hanno bisogno di vestiti infatti hanno allestito la stanza del riuso hanno bisogno di giocattoli una volta a settimana sono stata anche io abbiamo un appuntamento quindi c'è il giorno in cui io posso andare a donare quello che non mi serve più un altro giorno della settimana in cui invece le donne vengono a ritirare quello che loro necessita c'è il punto di ascolto donne il pad su appuntamento e sono le donne sono sempre ricevute da personale formato l'associazione nasce nel 2017 solo nel 2021 sono riuscita ad inaugurare i locali perché causa pandemia insomma hanno avuto un po' di problemi con il comune c'è anche la sede del cipia nel momento in cui dovesse necessitare questi luoghi quindi la casa delle donne è l'azione che dovrebbe venire subito dopo la formazione e l'educazione che viene a scuola le donne che lavorano si autofinanziano lavorano lavorano ci sono delle volontarie che sono all'interno della casa delle donne si autofinanziano sono delle donne che impiegano una parte del loro tempo per aiutare chi ha necessità sono tanti i laboratori che vengono attivati i laboratori di scrittura di lettura laboratori creativi ad esempio quella del cucito quindi è devo dire una bella realtà poi qualunque manifestazione c'è per il rispetto della persona il gruppo della casa delle donne è presente il mio auspicio è che la scuola metta a disposizione tante risorse per ma non tanto per pagare noi insegnanti ma se vogliamo fare delle attività importanti è necessario che ci siano delle risorse spesso le scuole in generale non ce l'hanno non ci sono questi fondi un altro appuntamento molto importante nella scuola che curo molto è il 25 novembre quest'anno i ragazzi e le ragazze hanno lavorato hanno fatto ricerche sulle donne che hanno subito violenza in Siria mamma mia mi sta venendo il dubbio giusto in Siria e quindi si 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 ma Samini che era questa donna che è stata uccisa si è fatta male ma comunque è stata effettivamente uccisa solo per la ciocca di capelli quindi in quel momento abbiamo creato uno spettacolo al buio quello che mi preme è creare emozione perché solo attraverso l'emozione tant'è vero che i miei alunni ricordano bene queste attività proprio per le emozioni che abbiamo che riusciamo a suscitare in quella mezz'ora perché gli spettacoli solitamente non durano tanto perché poi la gente si stanca mezz'oretta tre quarti d'ora riusciamo a dare quello e a rendere quello che abbiamo preparato in precedenza e c'è tanto lavoro dietro grazie grazie Antonella ringraziamo anche le donne dell'Iran che stanno battagliando per la loro libertà allora questa sera non abbiamo fretto anche perché poi dopo sarà servita una cena omaggio dei nostri sponsor a fine convegno ci sarà anche una sfilata di moda perché delle donne hanno detto noi vogliamo dare il nostro contributo sfilando non sono giovanissime ma sono comunque donne mamme nonne e sono comunque attive hanno voglia di dare dimostrazione della loro operatività e adesso sentiamo Cetti Giannone Cetti eccomi qua ti lascio il microfono donne violenza sulle donne disabilità cosa fare per coniugare queste due problematiche grazie buonasera a tutti intanto mi presento io sono una psicologa e psicoterapeuta da diversi anni mi occupo di questione di genere tra l'altro negli ultimi anni sono stata coinvolta presso l'Unione Italiana Cechi di Catania all'apertura di uno sportello donna uno sportello aperto a donne con disabilità che subiscono violenza non solo donne con disabilità in realtà siamo inclusive lo sportello è aperto a tutti ma in particolare ci siamo un po' specializzate in questo perché come vediamo un po' dalle statistiche se da un lato le donne con disabilità hanno una maggiore probabilità di subire violenza dall'altro lato vediamo che presso i centri antiviolenza non ci sono accessi o comunque gli accessi di donne con disabilità sono davvero molto rari e quindi vogliamo capire cosa succede dove vanno queste donne hanno la possibilità di chiedere aiuto il nostro scopo è intanto quello di fare emergere un sommerso attraverso l'informazione la formazione la sensibilizzazione e poi ovviamente l'accoglienza come vi dicevo prima non solo facciamo questo abbiamo intenzione anche proprio di promuovere dei laboratori di consapevolezza perché ci rendiamo conto che non solo nei casi di disabilità spesso in generale per la donna manca la consapevolezza stesso di subire violenza soprattutto diciamo quando la violenza è più è più sottile perché non c'è soltanto la violenza fisica e sessuale c'è anche la violenza psicologica quella economica e in questi casi soprattutto quando c'è una disabilità diciamo che diventa più facile giocare con alcune cose perché già come possiamo come sappiamo un po' tutti l'essere donna predispone un maggiore rischio di subire violenza se all'essere donna ci mettiamo la disabilità o altra fragilità come può essere ad esempio anche l'essere provenire da un paese diverso immaginiamo come no il rischio si moltiplica e noi ci siamo per questo quest'anno questa esperienza abbiamo provato a portarla anche presso l'Unione Italiana Ciechi di Siracusa a cui ho organizzato un incontro e qui hanno partecipato diverse associazioni con disabilità e il centro antiviolenza di Siracusa qual era perché vi racconto questo lo scopo era quello proprio di far dialogare le associazioni che si occupano di disabilità in quanto esperte di questo campo è il avvicinare anche il centro antiviolenza alla disabilità sia ripeto per fare informazione sia anche per essere preparati perché anche i centri antiviolenza devono essere preparati alla disabilità così come le associazioni che si occupano di disabilità devono essere sensibili e consapevoli dell'importanza di questo tema lascio la parola agli altri grazie per l'ascolto grazie cetti Sabrina Micarelli c'è se no andiamo avanti non c'è Maria Concetta Civello e Giovanna Di Pasquale vieni Giovanna vieni vieni fai compagnia Maria Concetta da sola allora Maria Concetta cosa fate a scuola qual è la scuola e che idea e quale volontà volete esprimere per questo momento allora buonasera a tutti buonasera a tutti sia io che la collega Giovanna Di Pasquale siamo dell'istituto comprensivo Santa Alessandria di Rosolini io ho ascoltato molto attentamente e voglio soltanto fare una piccola premessa è impensabile che questo problema così grande venga rimandato solo al legislatore è molto importante è la funzione della scuola è ancora più importante la funzione della famiglia è importantissima scusate se mi ripeto quella della mamma e del papà perché sono questi perché hanno in mano una grande responsabilità perché i comportamenti della scuola i comportamenti che si assumono a casa sono quelli che dai quali deriva il buon funzionamento di tutta la società e in particolar modo riguardo al problema che siamo qui stasera molto attentamente affrontando a scuola non si può pensare di affrontare questa problematica soltanto rimandandola alla giornata internazionale della donna che è l'8 marzo oppure quella del 25 novembre e chiudere lì la partita io nello specifico porto alla mia esperienza ci siamo trovati a leggere con una classe quinta il diario di Anna Frank e i bambini sono rimasti piacevolmente sorpresi nel vedere come è anche Anna nel suo diario tratta questo argomento e mi sono portata un screenshot voglio proprio leggere tre righe non mi dilungherò grazie diverse volte mi sono posta una di quelle domande che mi tormentano e cioè perché un tempo e spesso anche oggi la donna nei popoli occupa un posto molto meno importante rispetto all'uomo chiunque può dire che è ingiusto ma a me non basta vorrei tanto conoscere il motivo di questa enorme ingiustizia e stiamo parlando del 1944 e niente non mi voglio dilungare voglio soltanto dire che ripetere che abbiamo in mano una grande responsabilità un'arma molto potente che si ripercuoterà sulle future generazioni e noi dobbiamo educare i bambini a non essere violenti le bambine a denunciare ma in particolar modo dobbiamo abituare ad assumere un comportamento corretto nei confronti dell'altro sia maschio che femmina grazie Giovanna qualcosa la devi dire io sono bravo per fare parlare tutte quindi allora come ha detto la mia collega è molto importante il ruolo della famiglia si non sono abituata quindi è molto importante il ruolo della famiglia quindi educare i bambini educare per prima cosa i genitori è importante questo parlare con i genitori che devono educare i bambini a questo in quanto è importante che il ruolo della donna nella società come ha detto la mia collega noi lavoriamo non solo per l'8 marzo e 25 novembre facciamo delle attività proprio tutto l'anno e cerchiamo anche nei momenti liberi è importante educare questa consapevolezza è questo non penso ha detto tutta la mia collega e vi ringrazio mi manco le parole grazie 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 anche al dirigente Lupo allora adesso intanto voglio ringraziare Natasha Pisana di tolleranza zero zero moleste e Sinalp e poi vorrei nuovamente qui Serena Carnemolla poi andiamo ai saluti delle varie presidenti poi ci sarà presenteremo un'azienda di rose che fa rose non solo quelle coltivate che vanno donate alle donne ma rose di altro tipo e poi la sfilata moda e la cena quindi vi invito a rimanere dopo il convegno perché ci sarà una cena offerta dei nostri sponsor Serena ti tengo il microfono grazie Corrado grazie di cuore questa sera è accaduto uno dei di quelli che io chiamo miracoli perché quando abbiamo a volte bisogno di alcune risposte arrivano arrivano nei modi più belli più impensabili una meravigliosa donna ha chiesto ha scelto di rendermi voce del suo pensiero del suo sentire profondo e mi ha chiesto di leggere una poesia per lei di dare voce al suo sentire alla sua anima e io ne sono onorata e quindi vi leggerò adesso la poesia di Rosa Scarso ascolto questo silenzio e so che sono viva ascolto il silenzio e so che non dovrò più avere paura perché le parole sono come dei macigni ti possono schiacciare sono come dei coltelli ti possono uccidere ma oggi in questa quiete io esisto e non sono sbagliata oggi io non sono madre ma non sono meno donna oggi dentro questo silenzio riesco a respirare oggi so che esisto mi guardo allo specchio e mi riconosco non devo nascondermi non devo leccarmi le ferite io ci sono questo silenzio mi accarezza e non ci sono muri di parole che mi separano dal mondo oggi sento solo che io ci sono a prescindere oggi mi sento donna madre della mia vita rosa un abbraccio grazie grazie facciamo un applauso a rosa che ha scritto questa questione questo è un po' il sogno del caffè letterario federiciano Mariannina Coffa dare voce a chi in certi momenti sente di non avere voce ed è un po' ciò che desidero anche raccontare attraverso fronde primigenie la raccolta di racconti di cui vi raccontavo prima in cui anche Mariannina ha messo il suo zampino con la sua anima quindi grazie questo è il diciamo il nuovo lavoro che ho elaborato proprio raccogliendo questo sentire questi sentimenti cogliendo anche le sfumature di tante anime che magari non hanno quella forza di scrivere o di parlare e allora l'ho voluto raccontare attraverso questi racconti quindi io ringrazio infinitamente Rosa per avermi dato l'opportunità di dare le voce in questa poesia meravigliosa che racconta una parte importante della sua vita e che lei ha deciso di donare a me grazie è finito? ti diamo due minuti e quindi io in questi due minuti desidero parlare con la voce di un'antenata se Corrado me lo permette perché con Corrado abbiamo avuto la meravigliosa occasione di conoscerci proprio durante la presentazione del mio secondo lavoro Sciamanesimo Siciliano e Magia Popolare in cui ho raccontato la storia delle mie antenate e come tale desidero proprio raccogliere l'anima di quest'opera con pochissime parole che però hanno un certo senso io mi chiamo Carmela e se oggi mi sentite parlare in italiano è solo perché vorrei che tutti voi mi comprendeste anche se qualcuno non sa parlare il siciliano perché io so parlare solo il siciliano perché sono nata nel 1896 in una cascina di campagna sono una donna nata in campagna per lavorare sono nata perché in qualità di donna è giusto che io aiuti mio marito nella masseria e possa aiutarlo anche con i bambini possa crescere tanti bambini per aiutarci ma io ho a cuore la salute delle mie delle mie figlie delle mie nipoti di quelle che saranno le mie pronipoti io curo con le erbe io curo con le erbe io sono una devota profondissima a Maria sono devota alla Madonna addolorata e curo con le erbe utilizzo il rosmarino per aiutare le mie figlie a dormire meglio utilizzo la menta per aiutarle a stare meglio di stomaco le aiuto anche a dormire meglio con le erbe naturali e soprattutto le educo a conoscere e rispettare la natura gli animali magici che ci circondano qui nella vita di campagna perché senza la natura noi cosa siamo? noi donne siamo frutto di questa terra siamo radici e come tali possiamo tendere le nostre braccia al cielo e anche se sono una donna del 1896 ho tante nipoti ho tante pronipoti e una in particolare la guardo ancora da lontano si chiama Serena si chiama Serena e ha deciso di raccontare la mia storia in sciamanesimo siciliano in magia popolare un piccolo saggio che raccoglie le tradizioni della nostra cultura che raccoglie anche le preghiere che noi donne rivolgevamo a Maria la madre per eccellenza e sono sicura che lei come tante altre donne riuscirà a dare voce all'antico perché solo nell'antico ci sono le radici per il nostro futuro solo se crediamo profondamente in queste radici possiamo produrre grande frutto per i nostri successori e anche se Serena non ha figli così come dicevamo prima non è meno madre è madre di progetti e come tale desidera essere la voce di molte donne e può farlo grazie alla fiducia di Corrado quindi grazie grazie Serena ecco il suo ultimo libro e adesso andiamo ai saluti delle donne templari che in una rappresentanza vuole mandare un messaggio iniziamo da luna stella sole vieni buonasera a tutti per prima cosa voglio ringraziare Corrado che da quando l'ho conosciuto mi ha dato sempre la possibilità di esprimermi la prima volta che ho parlato davanti a qualcuno è stato per suo volere inaspettatamente mi disse vieni luna e parla ma non perché io non avessi niente da dire diciamo così prima che rompi il microfono te lo tengo io sì perché sono emozionata il problema era la mia timidezza che nel tempo sono riuscita a combattere oggi si è parlato di emozioni si parla di donne per le donne e con le donne si è parlato di figlie di sorelle di mamme tutti questi ruoli insieme che le donne hanno tutti i giorni della loro vita si è parlato del fatto che una donna che non è mamma non è diversamente mamma perché noi a differenza di molte altre realtà siamo empatiche credo che tutte le donne siamo così anche se non sempre riusciamo ad esprimere i nostri sentimenti e quindi niente non voglio dire altro vi ringrazio per questa serata e ringrazio ancora Corrado per questi appuntamenti periodici in cui dà la possibilità alle donne di esprimersi grazie 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 Luna Karin Giunta saluto sono tutte rappresentanti templari una delegazione naturalmente buonasera a tutti grazie di essere qui sapete mi chiamo Karin Giunta o il club service a Menomundi dei templari federiciani grazie Corrado per questa serata lo posso dire va bene così grazie a Karin che dopo la vedrete sfilare anche lei darà il suo contributo e adesso Lucia Caccamo c'è Lucia andiamo avanti Carmela Scarsol saluto vieni Carmela non sono stata avvisata mi sono un po' così vi ringrazio andando tutti per essere qui con noi stasera speriamo che vi divertiate a parte il caldo mi dispiace tantissimo grazie per il resto non saprei cosa dirvi grazie è già è importante applauso Lucia Caccamo buonasera a tutti allora io posso dire ho capito che lo tengo io il microfono così non lo distruggete va bene allora buonasera a tutti fra un po' avrete modo di vedere un bellissimo defile quindi aspettateci fra un po' saremo qui grazie Lucia speriamo di non dimenticare nessuno ormai sono vecchietto e allora giù si stracco a Danio viene giù si anche lei donna templare fra poco sfilerà insieme alle altre signore per dimostrare che essere donna e soprattutto voler dare il proprio contributo lo si può fare a tutte l'età buonasera benvenuti a tutti tra poco ci debutteremo speriamo che lasceremo un buon segno grazie Carmen Di Tommaso presidente di Agora presidente allora fai i tuoi saluti buonasera a tutti vi ringrazio per essere qua e basta sono emozionata e ci vedrete sfilare una buona continuazione grazie grazie allora hai fatto delle rose vieni vieni Giovanna hai fatto delle rose una tua passione il simbolo dei templari è la rosa bianca fu portata da Federico II da Gerusalemme e quindi è giusto che io ti dia la possibilità di parlare di rose leggerò più che altro fai quello che desideri sono emozionata allora io sono Giovanna fondatrice di Skin & Rose su un brand di cosmetici naturali vegani ed ecosostenibili nonché certificati bio e ovviamente siciliani è un onore stasera essere qui per parlare del mio progetto ringrazio Corrado per avermi invitata a questa bellissima serata per le donne parlando proprio con Corrado ho scoperto che il mio brand ha tante cose in comune con Agora come il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente che ci circonda uno dei valori centrali del nostro brand ma la cosa in comune più importante credo sia proprio il simbolo della rosa per me simbolo di rinascita Skin & Rose infatti non è solo una mia passione ma è anche il frutto di un lavoro di introspezione cominciato su me stessa durante il periodo pandemico in quel periodo infatti ho deciso di prendere un anno sabatico dal lavoro e dalla vita sociale per dedicarmi al mio benessere interiore rivedere e modificare abitudini e fare chiarezza su ciò che contasse veramente per me compresi gli obiettivi da raggiungere nella mia vita ricornettermi con la natura riscoprire nuove passioni essere grata per ciò che mi è stato donato mi ha aiutato a riscoprire il piacere delle piccole cose e il piacere dell'essenziale questa sera non sono qui per vendervi i miei cosmetici ma per ricordarvi che non è mai troppo tardi per reinventarsi e credere nei propri sogni e nelle proprie capacità ma soprattutto che non c'è niente di male nel decidere di fermarsi mettere in stand by la propria vita per dedicarsi al benessere interiore anche a costo di lasciare indietro situazioni persone e cose che non fanno altro che ostacolare la nostra crescita e il nostro cammino per poi rinascere più determinati e consapevoli di prima grazie a te naturalmente chi vuole i tuoi prodotti sono esposti allora non so se mi sono dimenticato qualcuno nel caso si alzi e venga qui a salutare sono dimenticato qualcuno sono stato bravo va bene ok allora io desidero ringraziare metto gli occhiali ormai con l'inzianità gli sponsor del nuovo punto Casanova presso il centro a Rosolini centro del gruppo latino corso di voi 115 esperti in elettrodomestici trovate tutto per la casa dalla cottura tavola cucina elettrodomestici naturalmente liste nozze e corredi ringrazio il centro a redi di Griscione Iemmolo da sempre a reda con classe le case dei siciliani via Santa Alessandra chilometro 1 ottica moderna Rossitto la professionalità e la cura dei tuoi occhi prima di tutto la trovate in tre punti vendita Rosolini a corso Savoia 83 in viale Aldomoro e ad Avola all'interno del centro commerciale Il Giardino Autoplus Rosolini sulla statale 115 Rosolini Ispica trovate solo auto garantite Adriano Spadola impresa edile modica Gianni Giuseppe autocarrozzeria via Fava 27 Rosolini Colle d'oro della famiglia calabrese e infine l'azienda agricola di Cavallo Carmela con box di frutta e verdura al mercato comunale di Rosolini allora questo momento non termina qui questo è un cammino un cammino che noi abbiamo attivato da un anno con l'istituzione del codice rosso con l'istituzione di un numero verde con l'istituzione di una stanza protetta che è a Modica e quindi dove possiamo mettere subito una donna in difficoltà o minacciata e poi con questo tentativo di mettere insieme tutte le associazioni che credono non solo parlano perché molte associazioni parlano e sono nate solo per chiedere contributi tante associazioni invece operano ci rimettono di tasca propria e quindi hanno bisogno di fare squadra fare rete ringrazio il dottor Raffa che ha creduto in questo progetto e che sarà con noi in questo viaggio questo viaggio dove porta a creare una consulta di associazioni che credono in ciò che fanno e tutelano veramente le donne e non solo a parole ma nei fatti porteremo un tour nelle scuole e nei teatri proprio per sovvenzionare poi tutte queste associazioni che fanno del bene anche le scuole che hanno bisogno di finanziamenti e quindi sarà uno spettacolo soprattutto per i giovani ma anche per i genitori che a volte sono rimasti giovani dentro e hanno poca educazione dei figli insomma c'è un mondo sotto sopra da rimettere in sesto e noi faremo la nostra parte cercheremo di mettercela tutta e questo per noi già sarà importante mettere la parte di ognuno di noi è una cosa buona dare voce a chi non ha voce è un dovere civico morale etico ed è quello che facciamo io lo faccio da tutta una vita ma è quello che faremo in sinergia con tutte le associazioni e le scuole che credono in questo progetto adesso la sfilata moda delle signore che hanno voluto dare il loro contributo e che porteranno questo momento moda in questo tour in questo spettacolo che si svolgerà sia nelle scuole e nei teatri quindi grazie da Corrado Armeri a tutti voi presenti e a coloro che ci seguono da casa via internet e in televisione buonanotte grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti